Ciao, io sono Gennaro5, qui ci troviamo su Badland per il 40esimo episodio Prima di iniziare volevo dirvi che stasera molto probabilmente non ci sarà live perché non mi sento bene E questo è un video per spiegarvi questa cosa Infatti adesso in questo momento mi sentirete un po' giù perché non mi sento bene Quindi facciamo un livello e poi almeno sapete che stasera molto probabilmente non ci sarà live Crone Honda Ecco appunto Ok E' molto difficile E vabbè E' un casino Ah, l'ha finita E' avanti Ma se durano così va bene Quindi voi supportatemi che non sto benissimo Che sfondo strano Blockworks Quindi blocchi di lavoro Non so Tutto a blocchi E' minecraft No, ho sbagliato Devo sapere la strada giusta Non c'è se poi Quindi probabilmente anche questo sia un livello veloce No, se l'ho fatto prima mi sono sbagliato di nuovo Devo stare per andare su il sotto Ma prendiamo i cloni perché ci servono E andiamo sotto Eh, va bene Eh, va bene Troppa roba Niente Questo è un livello Un tentativo solo Ok Aiuto Che troppa roba Troppi blocchi Ecco, punto Ah, ho assurato la bomba Mi ha preso, eh Mi ha dovuto prendere Comunque se sono da solo Ce la faccio E' molto più semplice Perché non c'è Casino Ho appena finito di dire Ma va bene No, e comunque Molto probabilmente Stasera non sarò neanche online per giocare Perché se non sto bene Meglio E' più importante la salute che giocare E niente Non riesco a passare di lì Invece ho passato due o tre volte Adesso non ci riesco più Power up non lo prendo Ok Niente Niente Volevo prendere Power up di sotto E Fa presto tempo Dove riprendere con un clone E poi Gli altri invece Proseguire Solo che qua E' un altro livello corto Problema che Non è facile Niente Mi incastro Volevo prendere quella cosa che ti fa impicciolire E mi incastro Di solito ho i livelli con un tentativo solo Non ci mettono tanto Durano poco i livelli Adesso non so quanto due di questo livello Voi lasciate like Nel frattempo Non so neanche se riuscirò a finirlo Quindi Pensate un po' Ok Vai avanti Niente Ma ha preso la barriera E' che questo non posso neanche stopparlo Perché E' una cosa Dall'inizio alla fine E' dovevo arrivare al traguardo In un tentativo di basso E' solo Ma se vi taglio Dopo non vedete Com'è fatto il livello E magari a voi interessa Dico magari perché non lo so E poi lascia anche Che non vi interesse Badland Vedo poche visual Su badland Su 100 tors E tante E' più veloce Questa volta Ok E evitiamo i power up Che ci fanno perdere tempo Oh Attenzione Ti prego Finisci il livello Perché non so Se è quanto Duro Oh perfetto Grazie Tutto a blocchi Questo come si chiama Momentum Momentum Vediamo se riusciamo a finirlo oggi Se no Lo faremo un'altra volta Eh E' più preciso Questa volta Ok Lo devo fare In questo Siamo a livello Senza checkpoint Però E' infattibile Ok Ce l'ho fatta Vai avanti No No E' niente Ce l'ho fatta Anche questo Cioè Tutti ha il primo Cioè Senza mai morire Eh Hanno avuto Non avevano voglia Di fare i livelli Quindi Ne hanno fatti Ne hanno fatti Un bel po' Senza Cioè Primo colpo Senza dover Ricominciare O checkpoint Quindi Devevo fare così Allora Scendi E niente Questa parte è critica Dai A meno uno Passa Due Ok No Casino Casino Poi Questa qua Niente Ecco Tutti con un solo tentativo Non ci riusciremo mai Perché non vi fa passare Ok Sempre due No Mi si è incastrato No Non è vero Devo prendere tipo Power Up Solo la piccolino Che c'era da sotto Non l'ho preso Perché non volevo Morire Siamo coltretti A prenderlo Niente Non riusciremo mai A fare questo livello Ecco Uno scarso Allora Niente Ha aperto una fessura Talmente piccola Che non ci passo Nervoso Niente Non ci passo Se non ci passo Che posso fare Contineremo così Sto la vita Vero Eeeh Vabbè Facciamo così Secondo me Provo un altro po' Di tentativi Poi se vedo Che non ce la faccio Vi salto un pezzo Se riesco Perché Sapete che è un livello Tutto di fila E quindi Non ce n'è il tempo Allora Sono andato avanti Ho fatto scoppiare Sta bomba E Quella che dove Mi ero incastrato Prima Nel momento In cui sono andato Più avanti Prendendo sta bomba Ho scoppiato un po' Di roba E adesso Proseguendo da qua Speriamo di non morire Perché Non vuole ricominciare Niente Ecco infatti Dove ricominciare Eccoci di nuovo qua Vai 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 Ti prego Non perdere Solo tre Me ne sono rimasti Ok Fatto E' stato difficile Ci sono messo Veramente Dieci Venti Minuti A fare Questo pezzo Perché era Complicatissimo Ora ci manca Soltanto L'ultimo livello Della zona Apocalisse E si chiama Particorpo Non so perché Si chiama così Però si chiama così Quindi Accontentiamoci Vi ho fatto tre livelli Oggi Tre livelli Perché erano tutti A veloci Erano tutti A un lucro tentativo Quindi Dovei farli per forza Subito E non anche più corti Particorpo Non so se sarà corto Anche questo Oppure sarà lungo E questi tre livelli Sono stati solo Una preparazione A questo ultimo livello Che deve essere Il più complicato Vi ricordo Comunque Che stasera La live E' quasi sicuro Che non ci sia Non lo so Dipende se sto bene Però Credo di no Quindi ci vediamo Domani Sera Domani con un nuovo video Adensi line Che non vedo l'ora di registrarvelo Sperando di Di riuscireci E Domani sera Per chi vuole giocare Come a Minecraft O Fortnite Ci sono Quindi Per chi vuole E la prossima live Mercoledì Venerdì Troverai se c'è una cosa Importante Per Per Fortnite Quindi spero Di Di stare bene Per quel giorno lì Perché altrimenti Dobbiamo rimandare Ci manca l'ultimo livello E 107 Da questa parte Dopo vi ho finito Il giocatore singolo Poi non so Se faremo anche Coppie E gruppo Comunque Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Per supportarmi Perché in questo periodo Se mi supportate Ogni like Io sto meglio No vabbè Non credo Però Fatelo nel dubbio Lasciate Condividete in giro Iscrivete al canale Se siete nuovi Se state vedendo questo video Ricordo che questo è il quarantesimo Quindi guardate anche Gli altri 39 Se volete E ci sono tante serie Sul canale Noi ci vediamo domani Con un prossimo video E stasera In live Non ne sono sicuro Non ne so Vi avverto adesso Perché chi guarda questo video Saprà che stasera Può lasciare un'altra serie In live Quindi niente Mi piace per questo Ma ci vediamo La prossima volta A presto